Allora ragazzi in tutta onestà questa è la quarta volta che io sto cercando di fare questo video ecco mi piace essere onesta e sincera perché veramente ogni volta c'è stato un errore da parte mia un inghippo una cosa c'è adesso buona Ormai pubblicherò questa chiedo scusa se non dovesse essere la registrazione perfetta per modo di dire ecco ma a questo punto basta ecco buonasera o buongiorno eccetera eccetera sono qua per presentarvi la ripresa di dialoghi sperimentali ripresa dopo la cosiddetta pausa estiva che poi fu vabbè è stata una pausa soltanto Tanto del mese di agosto e poco più ripartiamo a registrare la serata dell'otto settembre chi conosce dialoghi sperimentali sa già come funziona chi non conosce dialoghi sperimentali scoprirà che non è in diretta e quindi essendo che noi la chiamiamo diretta differita Registriamo la serata e poi la lanciamo sul mio canale di youtube dove resta tempo indeterminato registriamo la sera dell'otto settembre poi una volta finito non c'è un orario esatto ma tempo permettendo di conversione del video caricamento del video youtube che fa tutti i suoi giri sui controlli e compare appena possibile nella notte tra l'otto e il 9 di settembre Cos'è successo quest'estate? Niente io e Alessandro Alessandro con ed era che voi che chi conosce dialoghi sperimentali conosce molto bene Abbiamo avuto il privilegio e la gioia di andare a trovare per ben due volte Dan e Letizia Chi è Dan? Dan Alessandro Sabatta Ordalia ecco che stra protagonista uno degli stra protagonisti di dialoghi sperimentali che conoscete o conoscerete E la prima volta a luglio se vi ricordate c'è ancora il videino su youtube vi salutavamo dall'appennino bolognese La volta successiva abbiamo fatto poco tempo fa in realtà pochi giorni fa si può dire una registrazione in cui Alessandro propone un suo brano composto proprio lì Una parte e poi io mi esibisco dal vivo senza microfono non avevo dietro nulla è stata una cosa molto così estemporanea In Sguardo di Luna di Dan di Ordalia nella versione del canto quinto parte del canto quinto dell'inferno dantesco Già da me proposta svariate volte se avete voglia di andarlo a vedere E ora torniamo con nuovi esilaranti ospiti e novità Novità ci saranno momenti dal vivo Ci saranno contributi audio, contributi video Come al solito si parlerà di tante cose Che cosa facciamo? Torniamo un po' alle origini di dialoghi sperimentali Ovvero quello che ci interessa fare è ritornare a parlare un po' di appunto sperimentazione vocale, teatrale, musicale, sonora, artistica in genere E partendo proprio da lì con uno sguardo anche sul futuro in questo periodo storico così particolare Come ci poniamo, come ci poniamo verso il futuro Che semi vogliamo lanciare, che futuro vogliamo artisticamente Ecco perché ricordo che l'espressione artistica definita così tra molte virgolette sperimentale Non è mai fine a se stessa, non è mai intrattenimento O comunque anche nei casi più, chiamiamoli, leggeri Non è mai solo intrattenimento Quindi si va a scavare nel profondo Chi sono i nuovi ospiti di questa puntata? Prima le signore, Mirella Calcaterra Chi è Mirella? Allora Mirella intanto è una novizia Assoluta novizia della sperimentazione vocale Che ci porta con sé tutta la freschezza Proprio dell'essere novizia Perché a me piace questa cosa Proprio di portare a volte persone nella nostra trasmissione Che muovono i primi passi in questi ambiti Ed è bellissimo perché portano un entusiasmo E lo stupore e le nuove scoperte Anche diverse da quelle che posso avere fatto io Può avere fatto qualcun altro Sulle quali confrontarci Mirella è una mia allieva È freschissima, ripeto, nuova di adesso Sulla sperimentazione vocale In ambito canoro E quindi arriva proprio, diciamo Come dire, in questa puntata La sua presenza è proprio bella Dal punto di vista della freschezza che ci porta Mirella comunque si occupa anche di tante altre cose Sia a livello artistico Che a livello culturale Che a livello di ricerca personale Lavoro su di sé E a tal proposito Tornerà in un'altra puntata Sicuramente in cui tratteremo un tema specifico Che ora però non vi preannuncio L'altro ospite della serata Quindi nuovo, nuova, new entry Di dialoghi sperimentali È Stefano Luna Stefano è un mio carissimo amico Caro amico anche di Alessandro Io lo conosco da più anni Artisticamente abbiamo condiviso di tutto e di più Sia in ambito Scusate Bevo un po' d'acqua Sia in ambito Canoro Che in ambito teatrale Di reading Eccetera Abbiamo fatto un sacco di cose Dal tributo a The Rocky Horror Show Di cui in prossime puntate Vedremo anche degli estratti Non in questa puntata Ma nelle Magari anche in questa Ripeto Sto ancora preparando il materiale Ma siccome non so se farò in tempo Sicuramente in prossime puntate Perché Stefano, già vi dico Sicuramente tornerà Sarà dei nostri O almeno me lo voglio Me lo auguro Ecco Rocky Horror Show Anni insieme Concerti Di vario tipo Ospitate reciproche Io da lui, lui da me Reading Abbiamo anche fatto letture Eccetera eccetera E in tutto questo Ovviamente abbiamo condiviso Anche momenti di sperimentazione Vocale e teatrale Pur Stefano non nascendo Come sperimentatore Ecco Però è un grande sperimentatore Io lo posso dire Perché ci ho lavorato assieme Un brano ci vede duettare Nel mio album Sacra Dea E abbiamo fatto anche Varie esperienze dal vivo Vedremo degli estratti Lui è cantante Comunque di varie formazioni Tra cui una nota Rock band In tributo a David Bowie Gli Scary Monsters Limited Scusate Mi sto impappinando Quando ho detto In tributo a David Bowie Mi sono fermato Perché ho detto Proprio David Bowie Perché mi è venuto da ridere Che mi ha ricordato Che in un video Ho pronunciato male Questo nome E anche adesso Quindi l'ho pronunciato male Comunque E poi condividiamo L'amore per gli animali Tra cui l'origine Da provenienza Di Derek e Pimpa I miei cani Che sono qua Grazie a Stefano Ma ne parleremo Eccetera eccetera Non mi voglio dilungare Troppo Quindi Abbiamo diciamo Ci siamo lasciati Con l'ultima puntata Del 28 luglio Che era Non solo introdotta Stavo dicendo introdotta Ma in realtà Il tema era Di Gianni Bonetti Sulle teorie Di Neville Goddard E ora riprendiamo Tornando un po' Alle origini Di dialoghi sperimentali Tornando proprio La sperimentazione Al linguaggio artistico Al linguaggio creativo Con una nuova puntata Del tutto Aperta Di ripresa Con Ripeto Qualche momento dal vivo Tanto parlare In modo Libero Aperto E interessante E con interessanti Affascinanti Contributi Audio e video Bene Io non aggiungerei Altro sinceramente Visto che Questa è la Registrazione Che devo per forza Caricare Sono molto felice Di tornare A fare Dialoghi Dialoghi sperimentali Spero Di Così Vedervi Anche se non vi vedrò Numerosi E Grazie All'8 settembre Quindi Dico la nuova puntata Che sarà caricata Notte Tempo E Resterà poi Visibile Vita Natural Durante Ciao 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 Grazie a tutti